Le elezioni comunali si avvicinano e i cantieri tra le forze politiche e cittadine sono aperti, ma la conclusione dei lavori appare ancora lontana. Se nel centrodestra si agitano varie anime, in alcuni casi anche all'interno dello stesso partito, e le conseguenze della dissoluzione del PDL in Forza Italia e nuovo centrodestra rimangono ancora difficili da leggere in chiave locale, nel centrosinistra si affilano le armi in vista delle primarie, per le quali però al momento inlizza solo Riccardo Poletto. Ma non solo mancano i candidati sindaco, restano poco chiare anche le coalizioni, in un quadro di liste civiche che potrebbero schierarsi a destra o a sinistra. Benvenga a contributi dal centrosinistra, dal centrodestra eccetera, ma vedremo nelle prossime settimane i programmi che usciranno e su questo faremo alcune riflessioni. Già tra pochi giorni il quadro dovrebbe essere più chiaro, se non altro per i candidati sindaco. Le due grosse coalizioni avevano fissato per metà mese la scadenza, nel caso del centrosinistra, per la presentazione di candidature alle primarie, nel centrodestra per una scelta condivisa tra le forze che formeranno la coalizione. Per ora molte rimangono le ipotesi possibili, ma a regnare è l'incertezza. Anche i partiti tradizionali a Bassano, penso Partito Democratico e Forza Italia, dovrebbero fare uno sforzo a definire un programma per la città e il territorio, aperto il più possibile a forze civiche.